La stirpe dei Romanov ha governato la Russia per circa 300 anni. Sono stati adorati, temuti e odiati dal popolo. Nel corso dei secoli si diffusero molte storie su di loro, alcune vere, altre meno. Difficile capire dove finisca la leggenda e inizi la realtà, ma quello che è certo è che gli aneddoti che vi sto per raccontare riflettevano l'idea che aveva la gente di questi governanti. Pietro il Grande Lo zar che trasformò la Russia in un potente impero europeo. Aveva la fama di essere spietato e molto intelligente. Ma quello che interessa a noi è che si diceva passeggiasse per la città in incognito, vestito come un comune cittadino per vedere con i propri occhi come vivevano i suoi sudditi. Una volta entrò in una locanda e si mise a bere birra con un soldato, che chiameremo Geppino. Ridendo, scherzando e tracannando, Geppino si sbottona e gli confida Sai, ho impegnato la mia spada, metto un bastone di legno nel fodero. Vedrai, non se ne accorgerà nessuno. E quando avrò i soldi, la riscatterò. Il giorno dopo, parata militare! Pietro naturalmente è presente come imperatore. E tra i soldati, chi vede? Il caro Geppino! Eccolo lì! Gli si para davanti e gli ordina. Soldato, colpiscimi con la tua spada! Geppino sbianca. L'imperatore ripete. Fallo o ti impicco! Così Geppino afferra l'elsa della spada di legno e urla Dio del cielo! Fai un miracolo! Trasforma l'arma in un bastone! E sferra il colpo. Il bastone si spezza, lasciando l'imperatore sano e salvo. Silenzio. Tutti sono scioccati. Un sacerdote urla Miracolo! Dio ha salvato l'imperatore! Pietro ridacchia e sussurra al soldato Sei proprio un furbo figlio di buona donna, eh? E lo fa entrare all'accademia navale, ma dopo cinque giorni di prigione, perché il fodero della spada era sporco. Alessandro I Colui che riuscì a sconfiggere Napoleone nel 1812 e proprio intorno a questa impresa verte il suo aneddoto. Prima di dichiarare guerra, nel 1812, Napoleone inviò il suo ambasciatore in Russia. Il conte di Kulainkur Si, si chiamava così Kulainkur, che con sé portava una lettera in cui Napoleone affermava La Francia è pacifica come non mai, non aumenterà il numero delle sue truppe. Kulainkur andò da Alessandro per convincerlo di questo. A quel tempo, l'imperatore sapeva già che Napoleone si stava preparando per la guerra. Così rispose al diplomatico Monsieur ambassador, contraddice ogni informazione che ho, ma se lei dice che ci crede, cambierò idea, per quanto le credo. Kulainkur non sapeva più cosa rispondere e imbarazzato si alzò in piedi, fece un inchino e lasciò la stanza, prima di fare una brutta fine. Nicola I Nicola era un uomo severo e governò l'impero con il pugno di ferro, ma aveva un lato spiritoso che ogni tanto lasciava gli altri stupefatti. Una volta, alcuni paggetti stavano giocando nella sala del trono, pensando che non ci fosse nessuno. Uno di loro si sedette sul trono, ma all'improvviso, Nicola apparve e lo afferrò per un orecchio. Il ragazzo, rimasto impietrito, si aspettava il peggio, ma l'imperatore sorrise, dicendo, Ehi ragazzo, credimi, sedere su questa sedia è molto meno divertente di quanto pensi. Un altro aneddoto racconta di quando un soldato ubriaco iniziò a imprecare in una locanda, proprio accanto a un ritratto di Nicola. Quando gli fu detto Falla finita, quello è il volto dell'imperatore, gridò Al diavolo l'imperatore, gli sputo addosso. Dopodiché si addormentò e fu arrestato. Quando Nicola seppe di questa storia, disse Dite al soldato che gli sputo anch'io e lasciatelo andare e smettetela di appendere i miei ritratti nelle bettole. E per ultimo, un giorno Nicola era infuriato per la corruzione che si diffondeva in tutta la Russia e disse a suo erede A volte penso che ci siano solo due persone nell'impero che non rubano. Io e te. Alessandro II Divenne famoso per aver abolito la servitù della gleba nel 1861. Lo zar durante una visita in una piccola città russa decise di andare in una chiesa dove si svolgeva un'importante funzione. L'edificio sacro era molto affollato e il capo della polizia locale si precipitò davanti all'imperatore spingendo la folla per spianare la strada a sua maestà. Il poliziotto menava pugni a destra e a manca urlando con rispetto con riverenza. L'imperatore assistendo alla scena disse di aver capito in quel momento di come la riverenza e il rispetto fossero insegnati in Russia. Alessandro II aveva un umorismo cupo e una volta affermò non è difficile governare la Russia ma è assolutamente inutile. Alessandro III esteticamente sembrava l'emblema del vero uomo russo un gigante atletico con il barbone tuttavia come molti dei Romanov aveva poco sangue russo nelle vene. Una volta l'imperatore chiese in privato a uno storico le sue origini gli domandò chi fosse il suo bis bisnonno ovvero il padre di Paolo I la madre di Paolo I Caterina la Grande era in pessimi rapporti con il marito quindi si era diffusa la voce che il padre biologico di Paolo potesse essere stato uno dei suoi favoriti di corte. Lo storico allora rispose non posso nascondervelo maestà ci sono voci che il vostro bis bisnonno fosse il conte Saltikoff e Alessandro grazie a Dio spero sia vero in questo caso ho un po' di sangue russo la gran duchessa Tatiana Nikolavna fu la seconda figlia dello zar Nikola II e crebbe come tutte le sue sorelle in maniera modesta dormendo in culle rigide e senza cuscini e facendo bagni freddi ogni mattina era abituata a essere chiamata per nome si racconta che in un episodio la sua dama di corte la baronessa Sofia Buksoyveden la chiamò sua altezza imperiale Tatiana fu così scioccata dal fatto di essere chiamata col suo titolo che le diede un calcio sotto il tavolo e disse sei pazza a parlarmi così Paolo I ho tenuto per ultimo il personaggio con più aneddoti Paolo I era un imperatore duro fan della disciplina in stile tedesco e questo episodio ne la approva uno squadrone di cavalleria si fermò in un villaggio russo scoprirono che non c'era fieno per nutrire i cavalli tranne che nella casa di un mercante il mercante però era disposto a venderlo solo ad un prezzo molto alto il capitano della squadriglia diede l'ordine di espropriare il fieno e brontolò quel mercante merita la corda i soldati presero il suo ordine la lettera e impiccarono il mercante quando il capitano fece rapporto dell'incidente Paolo I lo degradò ma subito dopo lo elevò a grado di maggiore perché secondo l'imperatore aveva stabilito una disciplina così eccellente tra i suoi uomini che anche il più stupido dei suoi ordini veniva adempito immediatamente e grazie al piffero la testa mica era la loro che gliene fregava ai soldati del povero contadino secondo aneddoto nel novembre del 1801 Paolo I venne assassinato in un colpo di palazzo all'età di 46 anni nei secoli si diffusero delle leggende sul fatto che avesse previsto di morire giovane che poi giovane nell'ottocento potevi dirti fortunato a morire a 46 anni vabbè una sera Paolo si stava intrattenendo con vari membri dell'alta società e iniziarono a raccontare storie spaventose di carattere soprannaturale l'imperatore allora 27enne raccontò che una notte passeggiando per Pietroburgo in incognito aveva incontrato un uomo alto con un impermeabile e un cappello aveva il viso coperto e dal suo corpo emanava un freddo terribile lo sconosciuto aveva camminato per qualche tempo accanto a Paolo poi in risposta alla richiesta di identificarsi aveva detto chi sono? povero Paolo io sono quello che prende parte al tuo destino e che vuole che tu non sia particolarmente attaccato a questo mondo perché non ci starai a lungo vivi secondo le leggi della giustizia e la tua fine sarà serena temi il rimprovero della coscienza per un'anima nobile non c'è punizione più severa quando gli chiesero secondo lui che significato avesse questo presagio Paolo rispose significa che morirò in giovane età un'altra storia misteriosa intorno alla morte di Paolo I racconta che la sera dell'11 marzo 1801 l'imperatore stava mangiando quella che sarebbe stata la sua ultima cena ed era insieme ad altre 20 persone l'imperatore era allegro e scherzava molto quella sera Paolo parlò anche della morte con uno dei suoi commensali e disse che andare all'altro mondo non era come cucire una bisaccia dopo cena si guardò a uno specchio era uno specchio difettato e che perciò deformava le facce lui rise di questo e disse guardate che specchio buffo mi ci vedo con il collo storto dopo un'ora e mezzo venne stordito con un oggetto contundente e poi strangolato con una sciarpa la stessa sera prima dell'omicidio il figlio di Paolo Nicola I entrò nella stanza del padre il bambino aveva 5 anni e chiese a suo padre perché si chiamasse Paolo I perché prima non c'è stato nessun altro sovrano che si chiamava come me gli rispose l'imperatore allora mi chiameranno Nicola I se salirai sul trono gli fece notare il sovrano baciò forte suo figlio e lasciò rapidamente le sue stanze detto fatto quella sera zac ci lasciò le penne grazie per aver seguito questo video vi ricordo che se acquistate su quel bellissimo sito che si chiama Pampling usando il codice vivi everyday otterrete delle calze gratis a vostra scelta passate a trovarmi su instagram mi raccomando al prossimo video ciao